Vedremo cos'è uno studio di associazione, perché è stato deciso di fare questo studio di associazione sulla popolazione sarda e poi vedremo il workflow dello studio, una parte dei risultati ottenuti e quali sono i lavori in corso. Intanto i responsabili del fatto che siamo tutti diversi e che abbiamo tutti un fenotipo diverso è la variabilità genetica. Le variazioni genetiche spiegano la maggior parte della variabilità osservata tra individui della stessa specie e uno dei fenomeni principali è quello del crossing over, ovvero il meccanismo di ricombinazione del materiale genetico che proviene dai nostri genitori e che fa in modo che siamo individui tutti diversi con un fenotipo diverso, quindi insomma chi ha gli occhi chiari, gli occhi scuri o chi può avere ad esempio una malattia o non averla. Per identificare le varianti genetiche predisponenti per un determinato fenotipo si fanno gli studi di associazione, in particolare vedremo cos'è lo studio caso controllo che è un disegno sperimentale nel quale casi con una condizione definita, ovvero individui con un fenotipo ben definito che vengono chiamati casi, vengono confrontati con individui che non presentano questo fenotipo che vengono chiamati controlli e questi individui vengono presi tutti dalla stessa popolazione. Le informazioni sui fattori di rischio vengono confrontate tra i due gruppi alla ricerca insomma di un ruolo potenziale delle varianti genetiche in questo caso. Supponiamo di avere una popolazione con degli individui che appunto presentano il fenotipo che noi vogliamo, sul quale noi vogliamo investigare che chiameremo casi e degli individui che non lo presentano che chiameremo controlli e supponiamo di testare una variante genetica. Nel caso ideale di studio di associazione, ovvero quello di malattie monogeniche e a penetranza completa, avremo una situazione in cui tutti gli individui affetti avranno la variante genetica causale e tutti gli individui non affetti avranno la variante, quella che viene chiamata variante genetica protettiva. In un caso più generale invece di studio caso controllo, ovvero quello ad esempio delle malattie multifattoriali, avremmo che non tutti gli individui affetti sono portatori della variante predisponente e non tutti gli individui sani hanno la variante protettiva. Quindi in questo caso dobbiamo ragionare in termini probabilistici, la relazione non è più deterministica, ma dobbiamo usare la statistica e verificare appunto se c'è associazione di questa variante con la malattia. In questo caso, dicevo, si fanno dei test statistici e si tira fuori un valore che si chiama p-value, che indica la probabilità che la variante che noi stiamo testando non sia associata alla malattia considerata. Questo p-value è un valore che è tra 0 e 1, più è vicino a 1 e più la variante non è associata, e più invece è vicino a 0, più è associata. Quindi l'obiettivo di uno studio a caso controllo è quello di identificare varianti genetiche con frequenze diverse in casi e controlli che possano rappresentare un fattore di rischio oppure un fattore protettivo verso l'insorgenza di una patologia. L'assunzione che si fa in questo tipo di studi è che casi e controlli provengano da una popolazione omogenea e possano essere quindi utilizzati per stimare la distribuzione dei marcatori genetici nella popolazione sottostante, che siano quindi fondamentalmente un campione rappresentativo della popolazione. Gli studi di associazione si possono fare non solo per quelli che si chiamano fenotipi qualitativi, come appunto il fatto di avere una malattia o meno, ma anche per tratti quantitativi. Ad esempio, supponiamo di avere una popolazione qualunque e di voler vedere se ci sono varianti genetiche associate all'altezza, quindi noi avremo degli individui alti e degli individui meno alti. Supponiamo sempre che la variante rossa sia una variante che è implicata nel fenotipo essere più alti e invece la variante nera no. Anche qui abbiamo delle situazioni diverse, dovremmo ragionare sempre in termini probabilistici, infatti vediamo che non tutte le persone alte hanno la variante rossa e non tutte le persone basse hanno la variante nera, ma ci sono individui bassi con la variante rossa e viceversa. Nell'ambito degli studi di caso controllo si possono fare diversi tipi di studi genetici. Quello da cui siamo partiti noi è uno studio genome wide, ovvero uno studio in cui si cerca di identificare le varianti causali lungo tutto il genoma, quindi facendo una ricerca a tappeto. Si prendono delle varianti rappresentative e si fanno dei test di associazione su tutte queste varianti senza utilizzare alcuna conoscenza a priori, quindi senza considerare quello che è già noto, almeno in uno stadio iniziale, sulla malattia. Successivamente poi si possono fare degli studi su marker candidati e quindi testare un marcatore direttamente, ovvero studiare un marcatore che si ritiene già essere implicato nel meccanismo di insorgenza della patologia. Si possono fare degli studi su geni candidati e quindi studio dei marcatori che cadono nelle regioni di un gene, sempre che si sa già o si ipotizza che sia associato alla patologia considerata, oppure degli studi di fine mapping, in cui si sceglie sempre una regione da studiare e si fa uno studio ad alta risoluzione dei marcatori genetici in quella regione. Abbiamo parlato di marcatori genetici, vediamo brevemente cosa sono. Un marcatore genetico è costituito da una differenza nel DNA tra due o più individui e possono essere multiallelici, come nel caso ad esempio dei microsatelliti, inserzioni ed elezioni, copy number variation, oppure altri marcatori ancora più grandi, quindi riarrangiamenti su larga scala, duplicazioni, quindi di regioni di DNA, traslocazioni, inversioni, eccetera. Oppure possono essere costituiti anche da un solo nucleotide e in questo caso si chiamano SNPs. Gli SNPs o polimorfismi a singolo nucleotide, che sono quelli che studiamo noi, sono dei marcatori bialelici e sono costituiti dalla variazione di un singolo nucleotide in un altro. Il polimorfismo è considerato stabile se viene osservato in almeno l'1% della popolazione, altrimenti si parla in generale di variante rara. E diciamo che il progetto che è stato volto, il cui scopo era quello di identificarli, è iniziato nel 1998, ma diciamo che orientativamente dal 2001 si è iniziato ad utilizzarli in studi genetici. Si stima che nel genoma umano ci siano circa 30 milioni di SNPs che nascano come mutazioni, la maggior parte delle quali scompaiono nel tempo, mentre altre si stabilizzano diventando anche a volte molto frequenti. E questo avviene sia per effetto del caso che per effetto della selezione naturale, in tempi naturalmente abbastanza lunghi, che tecnologie utilizziamo noi per leggere questi SNP? Diciamo che dal 2001, da quando si è iniziato ad utilizzarli, ci sono state tante diverse case produttrici e si sono utilizzate diverse tecnologie. Con l'antere del tempo è sceso sia il tempo richiesto per la genotipizzazione, quindi per la caratterizzazione genetica di un individuo e sia il costo della genotipizzazione per persona. Si è arrivati intorno al 2007 con i chip delle case produttrici Illumina e Affimetrix a chip, che sono questi piccolini in alto a destra, che contengono circa un milione di marcatori e poi il futuro adesso è nel sequenziamento, insomma, che permette di ottenere tanti numeri di marcatori molto più grandi, una quantità di SNP molto maggiore. Le case produttrici, appunto, principali di questi chip genome-wide sono l'Affimetrix e l'Illumina, che sono chip, appunto, che abbiamo utilizzato in questo progetto di studio caso controllo. Si tratta di due tipi di chip leggermente diversi, quello della Affimetrix in quarzo, quello dell'Illumina e di vetro, contengono entrambi circa un milione di marcatori. In generale, su questi chip viene fissato del materiale genetico in delle posizioni precise. Dopodiché, secondo un protocollo molto preciso, si estrae il DNA dei campioni, lo si frammenta e lo si fa ibridare nel chip. Il risultato è un'immagine, un'immagine che verrà, ovviamente, poi tradotta in numeri, in normalizzata e che sarà pronta poi per l'analisi. Questa diapositiva, presa dal seminario di Andreangius, che c'è stato il 16 febbraio, ed è un'immagine dello scanner ad alta risoluzione, che legge il dato dei chip Affimetrix e per cui i concetti base sono appunto l'ibridazione del DNA sul chip, la lettura con uno scanner ad alta risoluzione e l'immagine come risultato finale del laboratorio. Abbiamo detto però che nel genoma ci sono circa, si stima che ci siano circa 30 milioni di SNIP e invece i nostri chip ne contengono solo circa un milione. E quindi è stata fatta una selezione in fase di design, in fase di progetto di questi chip, degli SNIP da inserire in modo che fossero in qualche modo rappresentativi. Quindi sono stati scelti dei punti nel DNA in base a delle conoscenze che ci sono e sono pubbliche in questo momento. Queste conoscenze vengono dal progetto UpMap, che è un progetto internazionale molto importante, il cui scopo è quello di fornire una mappa plotipica del genoma umano. In questo progetto partecipano tante istituzioni in tante nazioni e fornisce un database pubblico dei pattern comuni di variazione genetica nel genoma umano in varie popolazioni. Il concetto su cui si basa sempre la selezione degli SNIP è il concetto di linkage disequilibrium, ovvero quel fenomeno per cui due o più alleli non segregano in maniera indipendente, ovvero non vengono ereditati in maniera indipendente. Gran parte del genoma cade in segmenti di forte linkage disequilibrium, detti blocchi di aplotipi, separati da segmenti di basso linkage disequilibrium. All'interno di ciascun blocco, quindi, le varianti presenti sono tra loro fortemente collegate, correlate, scusate, e un piccolo numero di combinazioni di alleri distinti, chiamato aplotipo, rappresentano la maggior parte della variazione genetica nella popolazione considerata. Supponiamo, ad esempio, di avere un aplotipo ancestrale che è rappresentato dalla prima linea rossa, quella più in alto. Dopo una serie di generazioni avremo che questo aplotipo verrà trasmesso in maniera leggermente diversa, perché anche i segmenti di basso LED non sono sempre identici, però abbiamo una regione centrale che viene sempre conservata. Tenendo presente questi concetti, quindi, non è necessario studiare tutti i polimorfismi presenti nel genoma, ma possiamo scegliere dei polimorfismi che siano rappresentativi di queste zone, di questi aplotipi, in cui gli altri polimorfismi sono a questi correlati. E quindi, se siamo fortunati, verificheremo un'associazione diretta con la malattia, testando proprio lo SNIP causale, oppure, se non abbiamo nel nostro chip, nei nostri test, lo SNIP causale, potremo testare una variante in LED con lui. L'individuazione della variante causale dipende, quindi, da quanto la variante che testiamo è correlata con la variante causale. Vediamo un po', invece, il workflow dello studio, ovvero, come tutti i passi che sono stati fatti per portare avanti questo studio. Intanto, è necessario definire molto bene quali sono i casi e quali sono i controlli. Poi è necessario effettuare la raccolta dei campioni biologici e dei dati clinici, che è una fase che coinvolge tantissime persone e tantissime istituzioni. Poi è necessario effettuare la genotipizzazione in laboratorio. Una volta che si hanno i dati provenienti dalle immagini della genotipizzazione, fare dei controlli di qualità sia sugli individui che sui marcatori genotipizzati, un'analisi della struttura di popolazione e poi testare per associazione tutti gli SNIP. Poi abbiamo fatto un'inferenza di marcatori non genotipizzati e l'annotazione dei risultati e selezione dei marcatori candidati e regioni corrispondenti. Per quanto riguarda la selezione dei casi e controlli, potremmo chiederci perché è stato deciso di portare avanti questo progetto sulla popolazione sarda e perché si è deciso di studiare le malattie autoimmuni. Intanto la popolazione sarda, perché la dimensione del campione è adeguata al tipo di studi, ovvero è una popolazione che ha una dimensione sufficientemente ampia per garantirci una certa variabilità tra gli individui. Inoltre la popolazione sarda è una popolazione isolata e quindi presenta un'assenza sostanziale di sottostruttura di popolazione dovuta al basso tasso di immigrazione. Inoltre ci sono delle varianti, proprio perché è una popolazione isolata, che sono molto comuni nei sardi, errare o assenti in altre popolazioni. Infatti nonostante i sardi siano una popolazione europea, si comportano per varianti presenti come un outlier rispetto alla gamma di variabilità europea. Questo è particolarmente evidente da questo grafico in cui la lunghezza dei rami è proporzionale alla variabilità genetica. Vediamo che mentre gli italiani si trovano vicini ad altre popolazioni europee, i sardi sono abbastanza distanti per questi aplotipi testati, che si trovano nella regione dell'HLA, una particolare regione del cromosoma 6. Poi perché si è deciso di studiare le malattie autoimmuni? Intanto perché in Sardegna c'è un'alta incidenza di malattie autoimmuni, ad esempio l'incidenza del diabete di tipo 1 è 5 volte maggiore che nel resto d'Italia, è pari solo all'incidenza osservata in Finlandia. E poi perché ci sono delle altre ipotesi relative alle varianti predisponenti alle malattie autoimmuni, ovvero si pensa che gli stessi fattori genetici che sono predisponenti per le malattie autoimmuni potrebbero in passato aver protetto la popolazione da alcune infezioni batteriche e questo tra l'altro spiegherebbe in parte anche la longevità dei sardi e poi si pensa che ci sia protezione nei confronti di alcune forme di tumore. Ovviamente si parla di ipotesi comunque da validare. Questa figura rappresenta la prevalenza della sclerosi multipla in tante regioni mondiali del mondo. Si vede chiaramente che c'è una sorta di gradiente nord-sud in cui la prevalenza è maggiore al nord e diminuisce man mano che ci spostiamo verso sud. Il grafico è piccolo, però penso si veda che la Sardegna è rossa, quindi ha un'incidenza simile a quella dei paesi scandinavi. Ecco, in questa cartina invece si vede meglio. Abbiamo solo paesi europei e del nord Africa. Appunto la Sardegna si comporta diversamente dal resto dell'Europa del sud. Questa invece è l'incidenza del diabete. Anche qui abbiamo un comportamento anomalo della popolazione sarda rispetto alle altre popolazioni dell'area mediterranea e del sud del mondo. Passiamo alla raccolta biologica dei dati clinici. Raccogliere dati per un'intera popolazione è qualcosa che richiede molto impegno e molto tempo. La raccolta è iniziata circa 20 anni fa. Sono coinvolte un gran numero di persone e un gran numero di istituzioni, quindi dai centri trasfusionali agli istituti dove si curano le malattie studiate. E sono stati raccolti nel tempo circa 2.500 volontari sani provenienti da vari centri trasfusionali e ospedali dell'isola, circa 2.500 pazienti affetti da sclerosi multipla, circa 1.500 pazienti affetti da diabete di tipo 1. e la raccolta è ancora in corso, quindi questi numeri probabilmente aumenteranno ancora. I fenotipi clinici sono molto importanti, abbiamo detto, per la definizione di caso e controllo e vanno definiti in maniera molto accurata. Quindi deve essere fatta, inoltre, un'accurata selezione dei controlli rispetto al fenotipo da testare. Quindi bisogna stare attenti all'età, al sesso, all'appartenenza effettiva alla popolazione sarda o ad altri fenotipi presenti solo nei casi o solo nei controlli che possono creare dei bias, degli errori nei test di associazione. Ad esempio, se io voglio testare una malattia, esordio o tardivo, il cui magari esordio è più frequente dopo i 60 anni, non posso utilizzare controlli ventenni perché non so se dopo i 60 anni si ammaleranno. Quindi i controlli devono essere effettivamente controlli rispetto al fenotipo che voglio testare. Dove vanno a finire questi dati? Vanno a finire in un database che al momento è in beta e in test e che verrà illustrato in un seminario a cura di Jamoru Kukuru il 25 maggio. Successivamente, dopo la raccolta dei dati, si passa alla fase di genotipizzazione. Per il momento sono stati genotipizzati con il CIP Affimetrix circa 6.700 individui e circa 840 individui con il CIP Illumina. Tra questi individui compaiono individui non imparentati, TRIOS, ovvero famiglie costituite da tre persone dove ci sono i genitori e il figlio affetto e famiglie multigenerazionali con più affetti per famiglia. Il risultato dell'analisi dell'algoritmo che chiama i genotipi sui dati provenienti dall'immagine scannerizzata del CIP è rappresentato nel grafico che vedete a sinistra, in cui ogni puntino corrisponde a un individuo. L'asse delle ascisse corrisponde all'intensità letta per l'allele 1. Abbiamo detto che gli SNIP sono marcatori bialelici. L'asse delle ordinate indica l'intensità letta per l'allele 2. I dati vengono clasterizzati e suddivisi in tre classi, affettando un algoritmo che utilizza un modello gaussiano misto, e vengono appunto suddivisi nelle tre classi, omozigote per l'allele 1, omozigote per l'allele 2 e eterozigote. Dove vanno i dati di laboratorio? Vanno in un sistema che si chiama l'IMS, anche questo al momento in sviluppo al CRS4 e in beta, che verrà illustrato in un seminario di Gianfranco Frau il 7 settembre. Torniamo al nostro workflow, quindi dopo la genotipizzazione iniziamo i controlli di qualità sugli individui. Andiamo a vedere appunto la qualità delle nostre genotipizzazioni. Gli individui si fa un controllo di qualità sul call rate per individuo, che è la percentuale di genotipi chiamati sul totale, quindi su un milione di genotipi presenti nel chip andrò a vedere a quanti è stato assegnato un genotipo e per quanti invece l'algoritmo ha preferito non decidere perché l'intensità a letta non era abbastanza chiara. Si utilizzano delle soglie che possono essere 90, 95%, 98%, dipende dalla qualità generale dei dati. Poi si verifica la corrispondenza tra il sesso annotato e il sesso inferito con l'algoritmo. L'algoritmo di genotipizzazione va anche a inferire il sesso dell'individuo basandosi sull'eterozigosità del cromosoma X. E poi si fa una verifica delle relazioni di parentela annotate mediante un test di verosimiglianza tra i genotipi che io leggo, tra i genotipi reali che leggo e i genotipi attesi in base alla relazione di parentela che una copia di individui dovrebbe avere. Questo test è stato effettuato su altre 5.000 varianti di buona qualità altamente polimorfiche. Poi si passa a fare dei controlli di qualità sugli SNIP. Anche qui si fa un controllo sul call rate, che questa volta è la percentuale di genotipi chiamati, ovvero decisi per un dato SNIP, sul totale degli individui. Si va a vedere che non ci sia deviazione dall'equilibrio di Hardy-Weinberg nei controlli, dove la legge di Hardy-Weinberg dice che le frequenze alleliche sono regolate da una relazione del tipo P più Q al quadrato uguale 1, dove P è la frequenza dell'allele 1 e Q è la frequenza dell'allele 2. L'equilibrio di Hardy-Weinberg vale secondo determinate ipotesi, quindi la popolazione infinita, senza diflussi migratori, non selezione e non mutazione. Ovviamente la popolazione che abbiamo a disposizione non è perfetta, però cerchiamo di avvicinarci il più possibile. Infatti viene deciso un cut-off anche per l'eliminazione secondo questo test. Si fa un test statistico e si è decisa una soglia di p-value di 10 alla meno 6. Se per uno SNIP il p-value è inferiore a 10 alla meno 6, lo SNIP viene scartato. Questo controllo è un test che si fa solo sui controlli, perché nei casi un discostamento dall'equilibrio di Hardy-Weinberg potrebbe essere indice di associazione. Un altro controllo che si fa è quello sulla frequenza dell'allele meno frequente. Abbiamo detto che per definizione di SNIP allele con frequenza minore dell'1% sono considerate varianti rare. Inoltre la presenza di un allele molto raro diminuisce il potere di identificazione delle deviazioni dall'Ardy-Weinberg, può nascondere un errore di genotipizzazione e può generare associazioni spurie, perché per effetto del caso potrebbe, ad esempio, essendo molto raro, comparire solo nei casi, non nei controlli, e quindi potrebbe generare un'associazione spuria. In generale le soglie che vengono utilizzate per l'eliminazione sono 1% o 5%. Ulteriori controlli che si fanno sempre sugli SNIP sono l'eliminazione degli SNIP che presentano un eccesso di errori mendeliani nelle famiglie, un'eliminazione degli SNIP per cui c'è un numero eccessivo di maschi eterozigoti sul cromosoma X e l'eliminazione delle SNIP con un eccessivo tasso d'errore su dupliche, dove per dupliche si intende proprio dupliche sperimentali individui genotipizzati più di una volta di proposito per fare questi test di concordanza. I cut-off per questi test vengono definiti in base ai dati disponibili. Poi i passi successivi sono, avendo un dataset che contiene anche famiglia, la selezione di individui non imparentati per i test di associazione, quindi un'ulteriore verifica dell'assenza di parenti, e ulteriori controlli che si fanno sugli SNIP, quindi il controllo di call rate nei soli casi o nei soli controlli, una differenza non eccessiva tra call rate dei casi e call rate nei controlli, un ulteriore controllo sulla MAF nei soli casi e nei soli controlli, e il calcolo del p-value per l'Ardi Weinberg nei soli casi come informazione indicativa. A questo punto possiamo fare un'analisi della sottostruttura della nostra popolazione per verificare che non ci sia stratificazione genetica. La stratificazione genetica è un fattore di confondimento che è dovuto alla presenza di differenze di frequenze tra casi e controlli che non sono correlati al ferrotipo di interesse, ma possono essere dovute ad altri fattori, come ad esempio la presenza di una sottostruttura nella popolazione, e può portare all'identificazione di falsi positivi, quindi ad associazioni spurie. Abbiamo utilizzato un software, un algoritmo che si chiama Analisi delle componenti principali, implementato in un software che si chiama Egenstrat, che mediante analisi di matrici di covarianza riduce lo spazio dei dati identificando assi di maggior variazione per le frequenze alleliche. Consente di collocare gli individui in questo spazio, di identificare eventuali outliers, e di effettuare un test di associazione corretto per sottostruttura di popolazione. Un outlier è fondamentalmente un individuo geneticamente distante dagli altri, quindi un individuo per cui le frequenze alleliche sono diverse può succedere. Ad esempio c'è successo di trovare individui che avevano un genitore non sardo, e che quindi non clasterizzavano insieme agli altri in questo spazio di variazione delle frequenze, ma erano distanti un certo numero di deviazioni standard, e quindi sono stati eliminati. Questa analisi è stata effettuata su 100.000 SNIP di buona qualità, altamente polimorfici. Adesso possiamo fare il nostro test di associazione, finalmente, ma anche in questo caso dobbiamo considerare che facciamo un certo numero di test, e quindi se decidiamo ad esempio di accettare un errore del 5% per ogni test e testare 600.000 SNIP, questo significa che decidiamo di correre il rischio di avere 30.000 associazioni false. Quindi bisogna fissare una soglia di significatività in base al numero di test che facciamo. Questa soglia di significatività, secondo la correzione di Bonferroni, è dell'ordine di 10 a meno 8. In realtà la correzione di Bonferroni assume che i test siano tutti indipendenti tra loro, invece abbiamo visto che sempre per il concetto di linkage e disequilibrium i test per gli SNIP non sono tutti indipendenti, e quindi probabilmente è una correzione molto conservativa. Questo grafico rappresenta il risultato di un test di associazione su tutto il genoma. Vediamo nell'asse delle ascisse tutti i cromosomi dell'1 al 22 e il cromosoma X. Nell'asse delle ordinate vediamo il meno logaritmo in base 10 del p-value, e vediamo, questo è un test effettuato per un caso controllo sul diabete, e vediamo che c'è una forte associazione sulla regione dell'HLA, che è una regione che da tanti anni è noto essere associata con le malattie autoimmuni. Il grafico piccolo, ovviamente ogni puntino è uno SNIP, scusate, e per ogni puntino corrisponde al p-value di uno SNIP. Nel grafico piccolo, invece, in alto a destra, vediamo plottate, sempre il meno logaritmo in base ai 10 dei p-value, per una distribuzione indicata in grigio teorica in cui si considerano p-value come se fossero casuali, e invece i puntini blu rappresentano i nostri p-value, con l'esclusione di quelli del cromosoma A6, mentre la linea rossa rappresenta i p-value insieme, considerando anche il cromosoma A6. Questo ci serve per vedere se c'è un eccesso di falsi e positivi. Si calcola un parametro che si chiama genomic control, che è indicato sopra il grafico come lambda. In genere, questo parametro, se è minore di 1.1, diciamo che possiamo considerare un'associazione che non presenta un eccesso di falsi positivi. Ci sono dei possibili svantaggi per offrire questo tipo di test su un numero di SNIP selezionati da altri nei chip che utilizziamo. Infatti, essendo questi SNIP selezionati in base ai pattern DLD della popolazione AppMap, non è detto che questi pattern poi rappresentino i pattern di linkage e disequilibrium nella popolazione che stiamo studiando noi. Anche se gli SNIP selezionati per la creazione dei chip, quindi non sono casuali, ma sono stati scelti per essere rappresentativi, AppMap non è un database esaustivo. Infatti, basta pensare che solo qualche anno fa si stimava che gli SNIP sul genoma fossero 10 milioni, invece ora si stima che siano 30 milioni. Inoltre, il numero di casi e controlli necessario per trovare un'associazione dipende anche dal linkage e disequilibrium con la variante causale. Ovvero, se io testo una variante che è in linkage e disequilibrium perfetto, con la variante causale avrò la necessità di avere un certo numero di casi e controlli. Se l'R quadro, se il linkage, la correlazione tra la variante che testo e la variante causale si dimezza, quindi diventa ad esempio 0,5, dovrò raddoppiare il numero degli individui che testo per trovare un'associazione ugualmente significativa. Come possiamo ovviare a questo problema? Utilizzando dei metodi di inferenza. I metodi di inferenza sviluppati appunto da statistici e informatici consentono di effettuare uno zoom sul genoma, quindi di incrementare il numero di marcatori testati a costi molto bassi rispetto a quelli di effettuare dei nuovi esperimenti. Dei nuovi genotipi possono essere inferiti a partire da diversi pannelli di referenza, ad esempio sempre utilizzando i dati del progetto OpMap, oppure utilizzando i dati del progetto 1000 Genomes, che conta circa 13 milioni di SNP, oppure utilizzando i dati provenienti dal sequenziamento di individui sardi, per cui sono stati identificati finora, anche in questo caso, circa 13 milioni di SNP. Il progetto 1000 Genomes è un progetto internazionale, il cui scopo è quello di fornire un catalogo completo delle varianti genetiche umane, sia SNP che varianti rare, con frequenza minore dell'1% nelle regioni dei geni. Vengono utilizzati dei dati di sequenza di alta qualità per l'85% del genoma. Sono stati sequenziati finora 629 individui provenienti da varie popolazioni di Africa, Asia, Europa e America. Il catalogo non include solo SNP, ma anche copy number variation, inserzioni e delezioni, ed è fruibile gratuitamente. Per quanto riguarda invece le sequenze effettuate su... le sequenze di individui sardi, sono stati sequenziati fino a questo momento 508 individui, sono stati identificati oltre 13 milioni di SNP, di cui il 45% sono presenti nei database pubblici, mentre il 55% sono SNP non descritti. I dettagli sul sequenziamento verranno esposti nel seminario di Frédéric Renier l'11 maggio, che tratta appunto di sequenziamento e analisi bioinformatica del genoma umano. Vediamo a grandi linee come si svolge l'inferenza. Supponiamo di avere degli SNP tipizzati solo per alcuni marcatori e degli aplotipi di referenza. Se siamo fortunati, troveremo nei nostri aplotipi di referenza esattamente nelle stesse posizioni gli stessi alleli che abbiamo genotipizzato. Altrimenti potremmo trovarli ad esempio su due aplotipi diversi. In questo caso, tramite delle opportune analisi statistiche, viene ricomposto l'aplotipo anche per gli individui che hanno solo i genotipi, utilizzando appunto la referenza. Anche qui in questo caso non mi dilungo sull'inferenza perché verrà illustrata più in dettaglio nel seminario di Serena Sanna appunto sull'inferenza statistica e la lettura dei dati. A questo punto siamo quasi alla fine del nostro studio, quindi dobbiamo annotare i risultati. Diciamo che ripetiamo il test di associazione sui dati inferiti, non solo su quelli genotipizzati, e aggiungiamo delle informazioni ai risultati di associazione, quindi i risultati dei controlli di qualità, informazioni sul gene in cui cade lo SNIP testato o il gene più vicino, la posizione e la distanza dello SNIP testato rispetto al gene, la tipologia dello SNIP, quindi se è intronico, esonico, eccetera, e la funzione del gene quando è nota. Una volta avuto i risultati del test di associazione è necessario però anche fare un controllo di qualità aggiuntivo. In questo caso si tratta di un'ispezione visiva e qualitativa dei plot di calling. Questi sono i soliti plot di prima in cui ogni puntino corrisponde a un individuo. Gli individui sono suddivisi in tre classi, quindi omozigoti per un allele, omozigoti per l'altro o eterozigoti. In questo caso ci sono tre plot, uno, il primo in alto a sinistra in cui ci sono tutti gli individui, il secondo a destra in cui ci sono solo i casi e il terzo in cui ci sono solo i controlli. Questo è un plot che è venuto particolarmente bene dove le intensità a lette erano abbastanza distinte e dove è anche abbastanza evidente che c'è un'associazione perché ad esempio si nota che la nuvola blu è più grande, quindi ci sono più individui nei casi che nei controlli. Quindi l'allele 1 è più frequente nei casi che nei controlli, quindi sarà il nostro allele di rischio. Invece l'allele 2, che è quello del cluster rosso, si vede chiaramente che è più frequente nei controlli, quindi sarà il nostro allele protettivo. Purtroppo le cose non vanno sempre così bene perché a volte quando le intensità a lette non sono molto distinte, non sono molto chiare, non sono molto distinte dal background in realtà nell'immagine, l'algoritmo diciamo che ci sono delle regioni in cui preferisce non decidere. A una certa distanza da quella che lui fissa come centro del cluster decide che non è più il caso di assegnare un genotipo e quindi qui abbiamo quei famosi no call, quei famosi individui che per quello SNIP non avranno un genotipo assegnato e quei famosi SNIP che non hanno una bellissima qualità. In questo caso noi non sempre questo fenomeno qui è visibile con i controlli quantitativi che facciamo, per questo si fa l'ispezione visiva dei plot. In questo caso lo SNIP, anche se il risultato associato, è il risultato associato perché c'è un plot strano ed è da scartare. Cosa succede dopo l'associazione? Dopo l'associazione si selezionano dei marcatori candidati in base al loro ruolo, alla loro posizione nel genoma e si fa un'estensione e validazione dei risultati, poi si fanno delle analisi sugli aplotipi nelle regioni selezionate, un'interpretazione biologica dei risultati, studi funzionali e studi su modelli animali. L'estensione e la validazione dei risultati avviene rigenotipizzando i marcatori selezionati, quindi quelli che hanno un buon plot, hanno superato tutti i controlli di qualità e sono associati, rigenotipizzandoli nello stesso dataset e effettuando un test di concordanza, quindi rigenotipizzandoli con un'altra tecnologia considerata robusta, rigenotipizzandoli in un dataset esteso e rigenotipizzandoli in un dataset di individui indipendenti per vedere se l'associazione si conferma. Altre analisi che si fanno sono l'analisi condizionale, in cui si fa la valutazione della presenza di varianti associate nello stesso aplotipo indipendenti da quella inizialmente testata, oppure si valuta l'associazione dei marcatori rispetto all'associazione degli aplotipi di cui fanno parte per vedere se l'associazione che si vede è spiegata dal marcatore oppure l'aplotipo è più associato. Si fanno in seguito anche degli studi su modelli animali. È stato ottenuto da questi studi un primo risultato che è stato pubblicato a maggio dell'anno scorso sulla rivista Nature Genetics, in cui è stata identificata una variante nel gene CBLB associata alla sclerosi multipla. Questa tavella presa dall'articolo indica i numeri utilizzati in questo studio preliminare, in cui sono stati testati 882 casi, 872 controlli e poco meno di 600.000 SNIP al netto di tutti i controlli di qualità. Questi invece sono i numeri per i dati inferiti. Sono stati testati circa 6 milioni di SNIP non overlappanti utilizzando pannelli di referenza 1000 Genomes e AppMap. Come possiamo notare da quello che ho detto prima, solo nel giro di un anno gli SNIP testabili sono passati da 6 milioni a 13 milioni, quindi le cose vanno molto velocemente. Da questi primi risultati lo SNIP più associato trovato, a parte la regione dell'HLA che è già nota, è uno SNIP genotipizzato non presente nel pannello AppMap 2, ma solo nel Cipafimetrix. Il p-value sui dati genotipizzati è dell'ordine di 10 a meno 5, il p-value dopo l'inferenza su AppMap 3 e 1000 Genomes è di 10 a meno 6, il p-value nell'estensione è sempre 10, utilizzando 1775 casi e 2005 controlli, è sempre 10 a meno 6. Da un'analisi congiunta utilizzando tutti gli individui si ottiene un p-value di 10 a meno 10. Questo SNIP identificato inoltre spiega tutta l'associazione al locus in cui si trova, infatti le analisi condizionali non hanno mostrato segnali indipendenti nella regione in cui è stato trovato, anche l'associazione degli aplotipi è meno significativa di quella del marcatore singolo e poi sono state fatte delle ipotesi biologiche sul ruolo di questa associazione. È stato visto intanto in altri studi che topi knock-out per l'ortologo di CBLB presentano alta suscettibilità allo sviluppo dell'encefalomielite autoimmune, che è il modello murino della sclerosi multipla, quindi questo è una conferma. Il gene potrebbe inoltre avere un ruolo più generale nelle malattie autoimmuni e infatti è stato identificato come gene di suscettibilità per diverse malattie autoimmuni, tra cui il diabete di tipo 1 e in diversi modelli murini negli studi citati. Per quanto riguarda sempre le ipotesi di interpretazione biologica, sappiamo che il processo infiammatorio nella sclerosi multipla è causato dall'attività dei linfociti T che riconoscono la mielina come un agente esterno e la attaccano. Gli studi su modelli animali mettono in evidenza anche un ruolo dei linfociti B nello sviluppo di questa malattia. Nella figura possiamo vedere un nervo in condizioni normali in una persona sana completamente ricoperto dallo strato di mielina, ovvero di quello strato di grasso che isola il neurone permettendo una migliore trasmissione del segnale elettrico e nella figura, nella parte di destra, possiamo vedere un nervo di una persona affetta di sclerosi multipla dove la mielina è stata appunto attaccata. Il gene CBLB regola negativamente l'attività dei recettori di cellule T e di cellule B e quindi si pensa che una diminuzione di questa regolazione possa aumentare l'attività delle cellule B e T aumentando l'attacco di queste cellule che distruggono la mielina, che quindi la distruggono. Ci sono inoltre delle ipotesi aggiuntive, ovvero altri studi hanno dimostrato che i topi knockout per il CBLB non sviluppano alcuni tipi di tumore e che le variazioni del CBLB sembrano essere critiche nel mantenimento del delicato equilibrio tra l'attivazione e la tolleranza immunologica con effetti opposti nell'autoimmunità e nei tumori nel cancro. Veniamo ai lavori in corso. Abbiamo esteso la casistica a circa 7.000 individui e quindi stiamo lavorando in questo momento su tre studi di associazione sull'intero genoma uno per la sclerosi multipla, uno per il diabete di tipo 1 e uno utilizzando i casi di diabete di tipo 1 e di sclerosi multipla insieme. Sono state effettuate quindi delle nuove genotipizzazioni sia con il CIP Afimetrix che con il CIP Illumina come abbiamo visto prima. È in corso ancora il sequenziamento di individui sardi, quindi avremo nuove sequenze e nuovi pannelli di referenza. È in corso una nuova imputazione su pannello 1000 Genomes e su pannello sequenze sarde. Sono in corso inoltre degli studi funzionali per capire meglio il ruolo del CBLB nel predisporre alla sclerosi multipla. Qua ci sono le persone che hanno contribuito al lavoro pubblicato l'anno scorso sul CBLB. Altre persone che vorrei ringraziare sono Francesco Cucca e Chris Jones che sono il direttore scientifico di questo progetto e il direttore del programma GCT del CRS4. Serena Sanna che coordina il mio lavoro e altre persone del gruppo di statistica che hanno collaborato attivamente a questo progetto di studio sul diabete di tipo 1 e sulla sclerosi multipla. I ragazzi che si occupano del sequenziamento, Lidia Leoni e tutto il gruppo di HPC del CRS4. Il gruppo di valorizzazione e trasferimento della conoscenza del CRS4 che ha permesso di effettuare questo seminario. L'Università di Cagliari, insomma il gruppo Outreach, l'IRGB CNR e il team di progeniala Nusei. I riferimenti, grazie a tutti. Grazie.